vediamo adesso come è possibile inserire delle risorse all'interno di un corso entriamo nel nostro corso chiamato corso prova e vediamo come è possibile attivare la funzione per l'inserimento delle risorse ricordate sempre che in alto a destra è presente il pulsante attiva modifica e una volta cliccato su esso è possibile accedere alle modifiche permesse all'interno del corso esistono numerose icone, queste icone permettono di, come abbiamo visto anche già altre volte permettono queste icone di compiere delle operazioni sul nostro corso adesso però noi vogliamo inserire delle attività o delle risorse nel corso e per questo dobbiamo cliccare sulla voce specifica che è presente all'interno di ciascuna sezione del corso che appunto aggiunge un'attività o una risorsa nella finestra che appare si possono vedere che sono presenti alcune icone queste icone fanno riferimento appunto alle risorse e alle attività che sono a disposizione nel nostro corso naturalmente il numero di risorse e di attività dipende dalla personalizzazione dell'ambiente modul che è stata effettuata infatti possono essere aggiunti dei moduli e quindi l'aggiunta di moduli aumenta la disponibilità di risorse e attività individuata la risorsa che si vuole inserire nel corso è necessario selezionarla la selezione può essere fatta utilizzando la casella di spunta a fianco dell'icona della risorsa stessa nel nostro caso vogliamo selezionare la risorsa etichetta per cui andiamo a spuntare l'apposita casella fatto questo si può vedere che sempre nella stessa finestra nel riquadro a destra compare la descrizione della risorsa terminata questa procedura affinché la risorsa sia inserita è necessario cliccare sul pulsante aggiungi compare una nuova finestra che riguarda la personalizzazione della risorsa scelta allora si può vedere che prima di tutto si deve inserire all'interno del format dell'etichetta un testo il testo può essere formattato come si desidera perché si può notare che sono presenti tutti gli strumenti dell'editor quindi è possibile formattare il testo a piacimento non solo, è possibile anche a questo punto inserire degli altri elementi come un'immagine per inserire un'immagine è possibile attivare la funzione cliccando sull'apposita icona presente all'interno dell'editor in questo modo compare una nuova finestra in cui è possibile scegliere il file da inserire la scelta del file presuppone che questo venga caricato sul server naturalmente abbiamo nel nostro esempio preparato in precedenza un'immagine da caricare e quindi a questo punto si trasferisce l'immagine dal proprio computer alle server su cui risiede la nostra piattaforma terminata l'operazione quindi bisogna cliccare sul pulsante carica file e l'immagine sarà caricata e visualizzata nella nostra etichetta possono essere effettuate delle operazioni sull'immagine come la riduzione della stessa quindi la riduzione della dimensione e questo è possibile andando a cliccare sull'immagine dell'immagine e quindi attivando quella che è la funzione di ridimensionamento terminata la fase di configurazione dell'etichetta è possibile cliccare sul pulsante salva e torna al corso in modo che l'etichetta venga resa visibile all'interno della sezione e quindi può essere eventualmente modificata per avere un'idea di quello che vedrà l'utente finale si può cliccare sul pulsante termina modifica in questo modo quindi si passa dalla visualizzazione in cui è possibile effettuare modifiche del corso a quella invece di sola lettura che sarà quella che l'utente finale potrà visualizzare vediamo adesso come inserire un'altra risorsa in questo caso inseriamo un link ad una pagina web che è presente nella rete internet ritorniamo ancora a cliccare sulla scritta aggiungi risorsa si apre ormai familiare la finestra che abbiamo precedentemente visto questa volta andiamo a selezionare la casella a fianco dell'icona URL anche qui viene mostrata una breve spiegazione di quella che rappresenta il modulo URL deciso che si vuole inserire questa risorsa clicchiamo sul pulsante aggiungi e la risorsa sarà inserita anche qui prima di visualizzare la risorsa nel nostro corso è necessario procedere al riempimento di alcuni campi relativi alla risorsa in questo caso dobbiamo riempire il campo nome e il campo descrizione della risorsa questi campi risultano essere obbligatori per cui la non compilazione degli stessi fa sì che il sistema ci risponde che la risorsa non può essere inserita per visualizzare il messaggio del sistema nel caso in cui non viene inserito nessun termine all'interno dei campi obbligatori procediamo con l'inserimento dei dati e decidiamo di non inserire nessun dato all'interno del campo descrizione andiamo a combinare il campo relativo alla URL quindi in questo caso andiamo a scegliere l'indirizzo, il link che vogliamo inserire nella nostra risorsa possiamo andare direttamente nella rete internet a individuare il sito che vogliamo che venga raggiunto partendo da questa risorsa individuata la pagina web che si vuole raggiungere dall'interno della risorsa è possibile copiare il link di questa pagina e incollarlo all'interno del campo presente nel nostro modulo URL precisamente il campo che indica il link alla risorsa altra configurazione che decidiamo di fare è quella di doare la modalità di visualizzazione della risorsa sono possibili alcune opzioni e noi in questo caso scegliamo che la risorsa venga visualizzata all'interno di un pop-up questo significa che quando l'utente cliccherà sul link della risorsa si aprirà una pagina pop-up e all'interno di questa sarà visualizzata la pagina web collegata al link inserito nella risorsa naturalmente è possibile decidere di configurare ulteriormente la nostra risorsa evitiamo di andare a analizzare quelle che sono le configurazioni avanzate perché nei nostri esempi non interessano a questo punto possiamo decidere di salvare la configurazione del modulo e tornare al corso quindi è possibile cliccare sul pulsante che è in fondo alla pagina su cui è scritto salva e torna al corso come si può vedere non viene accettato il salvataggio del modulo questo perché abbiamo messo di compilare il campo descrizione se ritorniamo in testa alla pagina dove è presente il campo descrizione si può notare che compare una scritta che ci avvisa che questo campo è obbligatorio per cui è necessario inserire una breve descrizione e dopo di che è possibile salvare le modifiche inserite e a questo punto queste verranno accettate effettuato il salvataggio del modulo si può vedere che la risorsa url è stata inserita nella sezione in cui avevamo deciso di far comparire questa risorsa cliccando sul nome della risorsa viene visualizzata una finestra pop-up all'interno della quale è possibile visionare e navigare la pagina web collegata a questa risorsa ripetendo questa procedura è possibile selezionare altre risorse e inserirle nelle sezioni del nostro corso grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti